Se dopo aver dormito ti capita di sentire frudito e di avere qualche piccolo puntino sulla pelle, fai attenzione, perché nel tuo letto potrebbero esserci delle cimici. Note anche come pulci del viaggiatore, la presenza delle cimici da letto in realtà non è causata da motivi genici e si tratta di parassiti difficili da debellare. Sono insetti piccolissimi, anche se visibili ad occhio nudo, vivono in ambienti caldi e sono in grado di nascondersi tra le pieghe del materasso e nelle giunture dei letti. Per individuarne la loro presenza è necessario fare attenzione ad alcuni fattori. Se nel letto vi sono delle piccolissime macchioline nere, che corrispondono a macchie fecali delle cimici, oppure se vi sono le esuvie, ossia parti del rivestimento esterno della cimice. Un altro sintomo è la presenza di punture sulla pelle dopo aver dormito. Le punture di questo parassita non sono particolarmente pericolose per la salute dell'uomo, ma risultano comunque fastidiose perché provocano rigonfiamenti cutanei e prurito. Una volta riconosciuta la presenza di cimici da letto è necessario porvi rimedio. Per farlo bisogna pulire bene l'ambiente e lavare la biancheria da letto ad alte temperature, poiché le cimici non sopportano temperature superiori ai 50 gradi. Inoltre è buona cosa ripetere spesso queste operazioni, perché le cimici da letto possono manifestarsi anche in luoghi puliti.